Una t-shirt per l'ambiente. In occasione delle festività, Nugnes lancia da Trani il progetto Sostenibile senza mare, non sua mare. Moda e territorio si fondono in una nuova missione, un manifesto per la salvaguardia dell'ambiente, la valorizzazione e il rispetto del nostro mare. L'iniziativa è soltanto il primo passo verso una serie di attività che Nugnes svilupperà nel corso del 2022 in altre città. Un mare che non si vive soltanto durante le vacanze estive, ma che è da sempre sostegno fondamentale per la Puglia con la sua cultura vitale ed eclettica. La giovane azienda, che si occupa della distribuzione del primo sistema al mondo di smaltimento di rifiuti marini, donerà al comune di Trani per la sua installazione all'interno del porto un contenitore galleggiante dotato di un meccanismo a pompa alimentato elettricamente che convoglia al suo interno fino a 25.000 litri d'acqua all'ora, filtrandola e ripulendola dei detriti galleggianti. Tale sistema può raccogliere 3,9 kg di detriti al giorno, pari a mezza tonnellata di rifiuti di plastiche e microplastiche l'anno. Simbolo di questa iniziativa è la t-shirt rosa. Il ricavatto della vendita servirà a sostenere il progetto di salvaguardia dell'ambiente marino. Un grande gesto di sensibilità nei confronti, peraltro, non banalmente della nostra città, ma dell'ambiente in generale. La plastica ormai sta invadendo tutti i nostri mari. E quindi il pensiero non poteva che andare a quello che di fatto abbiamo iniziato a fare con i Seabin, con questi sistemi che stanno funzionando benissimo nel nostro porto. Siamo stati i primi in Puglia ad utilizzarli. Questa iniziativa nasce in maniera molto simpatica. Facevamo uno shooting fotografico qualche mese fa e la nostra stylist ha vestito con dei nostri abiti un bagnante il quale ha pronunciato questa bellissima frase senza amare, non so amare. L'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo portata come simbolo per sensibilizzare questa terra e tutti quanti noi e renderla ancora più bella.